Ragazzotte e ragazzotti, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Oggi vi porto un gameplay davvero bestiale perché ho giocato una ranked in solo nella nuova season 2 di Fortnite dove ho conquistato tutti e quattro i medaglioni dei nuovissimi boss e ovviamente il mio inventario era composto solo ed esclusivamente da armi mitiche. Non mi sono neanche a dire ragazzi il devasto che ho fatto in questa partita perché sarete voi stessi a giudicare e prima di iniziare con il video però vi invito a lasciare da subito un bel pollicione in su, di iscrivervi al canale e vi ricordo che vi trovate in live tutti i giorni sul mio canale Viola dalle ore 16 dove vi sfido tutti i giorni in live per l'appunto in 1v1 ranked nella mia mappa in creativa. Come sapete però all'interno della mia mappa 1v1 ranked abbiamo inserito tutte le nuovissime armi della nuova season quindi la mappa è sempre completamente aggiornata e se volete allenarvi con me o con i vostri amici e diventare sempre più forti e rancare per arrivare al rank massimo che ovviamente vi permetterà di avere dei premi in palio che li riceverete direttamente dalla sottoscritta, vi invito a giocare il più possibile la mia mappa. Vi lascio qui sotto il codice della mia mappa 1v1 ranked, giocatela, allenatevi, rankate perché ragazzi davvero ne vale la pena. Detto ciò ragazzi ora non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al gameplay. Vi auguro una buona visione. Ah 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 My name is Gustavo, battevi body call me C***o in der c***o Ora mi lavo, mi vesto e sci... Questo game è vinto. Non ci credete? Ora vi dimostiamo a vincere un game. Hello guys, welcome to the video gameplay. Ok, today I'm gonna show you how we win a nice game in ranked platinum in the new Fortnite season. Per prima cosa andiamo e lo diamo queste bacche e ce le mangiamo tutte quante. Prima una e poi la seconda. Dopodichè andiamo qua, lo diamo questo SMG che sarà molto fondamentale per la vittoria di questa partita. Andiamo, e di qua ci sarà un player che sta scappando. Quindi cosa facciamo? Saltiamo in questo modo, facciamo il trick, boom, boom, boom. Morto uno, così, easy. Travis Scott ci saluta. Il signor Samu ci abbandona improvvisamente dopo questa partita. Andiamo in questa direzione a prendere un bel cecchino, prendiamo questo, lo buttiamo, andiamo alle MP molto bene. Farmiamo giusto due materiali perché è importante, ragazzi, farmare nel 2024 perché sennò a questo punto andiamo a giocare alle no build. E ci possiamo preparare per il prossimo agguato. Va bene, porco. Questo è il trick. Mi sento molto rinata dopo questa uccisione. Arrivederci, è stato bello giocare con lei in questa partita. Ci rivediamo magari nella prossima lobby, eh. Salve. Dopodichè, ragazzi, salite qua sopra in highgrounds. Ma chi l'ha ucciso? Perfetto, signori. Molto bene. Questo game inizia alla grande. Ora. Dopodichè dobbiamo capire un attimo la situazione parlamentare economica. Dobbiamo andare là sotto, ragazzi. Quindi facciamo così. Boom. Che? Ma muore subito, ragazzi, oppure no? Cornuto, 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 cornuto. Ahahahah. Hai preso un bel pisellone. Come era buono? Di suo gradimento? Arrivederci. Ok. Faze grego. Va bene, bro. Tutto bene? Ti vedo un po' col mal di testa. Nel caso, fammi sapere se ti interessa, non lo so, un servizio in camera. Che ne possiamo riparlare? Arrivederci. Let's go, baby. Prossimo medaglione. Grimsgate. Let's go. Credo che abbia lui il medaglione, ragazzi. Avete? Rettifico. Aveva il medaglione. Arrivederci. Grazie, dovevo giocare con lei. È durato un po' poco, effettivamente. Però succede nella vita. Ma vorrei prendere quattro medaglioni, se riusciamo. Sarebbe fucking fantastic. 100. 100. Dai cornuto Dai bro ci vediamo domani alle 4 e mezza Puntuale sono mi cazzo Cioè la puntualità è importante nella vita Avanti al prossimo Arriva quello con la McLaren adesso All right For punch to peace Eh no bro Eh no bro Non puoi pusharmi e puoi scappare così E mi stai proprio sul c***o Hello Vabbè affari in c***o a rompermi i c***o per mezz'ora per poi morire così Ma vaffan c***o va In tutto ciò io sono andato a caccia degli altri medaglioni Non riesco a trovarli eh Vabbè affari Addio Addio Amici addio Ci vediamo all'inferno Piezzo di m***a Ditemi però Ditemi che c'è l'altro medaglione in lobby Sì c'è Possiamo fare quattro medaglioni Goto 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 I'm coming Non mi dire che è sotto il bunker sto qua Non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo È nella macchina È nella macchina per forza 100% That's my enemy Rupis Dove è la medagliona? Non mi direi che non era lui Non era lui ma non ci credo Ma sembrava di sì Eccolo Buonasera Ciao amore mio Come stiamo? Tutto bene? Quattro medaglioni Zio porco Ora sì che cominciamo a ragionare 45 colpi Signori Armi mitiche Quattro medaglioni E si va così A vincere Il ranked Questa è la terza win Che facciamo oggi Non vorrei dire Non vorrei comunicare